Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto in Italia, la terribile notizia è arrivata pochi minuti fa, l'ennesima giovane vita stroncata che ha lasciato tutti senza parole. La comunità della pallavolo laziale è scossa da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. La prematura scomparsa di Giovanni Bianchi, giovane atleta di soli 15 anni, avvenuta improvvisamente nella giornata di lunedì a Roma. Giovanni era un ragazzo pieno di energia e passione per lo sport, ed era già diventato un punto di riferimento per i suoi compagni alla finice pallavolo. Il comitato FIPA Vlazio si è stretto attorno alla famiglia Bianchi e alla società sportiva in questo momento di immenso dolore. Il presidente ha espresso parole di vicinanza e affetto. Questo lutto colpisce profondamente tutta la nostra comunità sportiva. Giovanni era un giovane che amava la pallavolo con tutto se stesso, ed era un esempio per i suoi compagni di squadra. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia. La perdita di Giovanni rappresenta un dolore profondo per tutto il movimento pallavolistico del Lazio. In queste ore sono tantissimi i messaggi di affetto e di sostegno che stanno arrivando alla famiglia e alla finice pallavolo, una testimonianza di quanto Giovanni fosse amato e apprezzato.